Ciao, sono Sandro Toglianzi, vi voglio raccontare che vi voglio lamentare più che altro perché in agosto vengono fatti sempre dei lavori. L'anno scorso c'era la storia della facciata, avevano montato i ponteggi e bisogna tenere le finestre e faceva casa. Quest'anno c'è la storia del metro, la linea 2 che viene anche bloccata in certi punti, in più c'è il lavoro, hanno cambiato tutte le strade e alcune hanno diviso la stessa strada in due parti, che da una parte arriva quelli che vengono da destra e dall'altra parte quelli che vanno dalla parte sinistra e vanno in su al contrario. Siamo qui come circondati da queste cose che hanno fatto, mi chiamano con le cancellate di rame perché non si può passare di qua, non si può passare. Poi il rumore anche delle macchine che adoperano perforare i lati della strada. In più ho dovuto andare a Monzino pensavo, ho detto tanto è agosto, c'è tutto il traffico invece, anche lì stanno facendo i lavori, hanno cambiato tutto il modo e i piani dove fanno, per presentare le domande, per fare le analisi, allora bisogna andare giù al piano sotto, meno uno, e lì bisogna, la macchina funziona dalle dieci mezza in poi, invece prima funzionava alle 8, uno andava lì, quando arrivava prendeva il miglietto e aspettava il suo turno, quando veniva fuori il numero andava allo sportello con il numero che veniva fuori e chiuso. Invece adesso bisogna fare la fila per prendere il numero perché la macchina è chiusa e non funziona e la fanno funzionare dalle dieci mezza. Poi bisogna fare un'altra fila perché bisogna andare agli sportelli, ci sono impiegati che per la prenotazione delle varie analisi, taccolo, ecodoppler che uno ha bisogno e così passa molto di tempo e fa caldo, si ruona niente, anche sta all'impiede, in continuazione nel corridoio si arriva già stressato per andare a fare questi esami, più c'è questa questo disagio che poi il caldo che c'è anche fuori uno rimane un po quando uno farà le analisi o altre cose altra fila altro modo la cosa insomma tante cose che stanno facendo in agosto ed è quasi stressante uno sarà così meglio che stia a casa e io vi saluto e uno si stufa e a presto